buongiorno bentornati in questo nuovo video mi scuso per la faccia ma era necessario essere struccate perché oggi vi volevo parlare della testina sonic foundation del da applicare sul clarisonic io ho il clarisonic mia 1 il primo uscito e questo appunto è la testina questa testina promette di stendere il fondotinta stile airbrush e io vi dico l'ho già provata da un paio di settimane che la sto utilizzando ed è una cosa meravigliosa costicchie perché costa attorno ai 32 euro mi sembra però li vale tutti quindi bando alle ciance prendo la mia baby cream voglio utilizzare questa qua di so bio invece del fondotinta perché stamattina ho messo solo il siero non ho messo la crema quindi preferisco utilizzare la baby cream allora quello che vi posso dire è utilizzate pochissimo prodotto perché ne basta veramente un quarto di quello che si utilizza solitamente quando mettiamo appunto il fondotinta con la beauty blender adesso vi faccio vedere più o meno quello che utilizzo io mi girerò da questa parte dove ho lo specchio quindi vedrete il mio meraviglioso profilo allora questo è il quantitativo che utilizzo poi casomai ne vado ad aggiungere se vedo che ne manca non so se riuscite a vedere il prodotto è pochissimo aziono il clarisonic e appoggio la testina in maniera molto molto leggera perché sennò vado a creare delle striature ok riuscite a vedere la differenza facciamo anche l'altra parte allora metto un po di correttore anche per andare a coprire le disgrazie ecco il correttore lo tampono con una sfugnetta perché mi prude l'occhio con il clarisonic ok se siete soddisfatte della coprenza questo è il risultato io voglio metterne ancora un pochino in tutto ciò volevo ricordarvi che sto utilizzando una baby cream quindi non è un fondotinta bene ecco qua spero riusciate a vedere qualcosa perché una luce sparaflesciata in faccia oggi quindi non ho idea di cosa venga mi faccio un attimo uno zoom per così vi faccio vedere i miei pori dilatati no voglio vi faccio vedere un attimino l'effetto allora come vedete a uniformato benissimo l'incarnato spero riusciate a percepirlo e l'effetto è quello di non avere nulla sulla pelle ripeto ho utilizzato una bb cream ma scuola testato anche con il fondotinta vi posso assicurare che avete l'effetto pelle nuda meraviglioso è super confortevole cose che questa bb cream invece di solito la sento abbastanza pesante infatti l'avevo un attimino accantonata e quindi ragazze niente io sto adorando questo prodotto guardate una semplice bb cream per le occhiaie e il miracolo deve ancora venire e queste sono queste ci teniamo quindi ragazze questa appunto è la testina eccola qua questa è la scatolina in cui punto che arriva il costo è di 32 euro circa vi metterò comunque qui il link nel nell'info box se siete interessate l'acquisto e allora sapete tutti che il clarisonic ha un costo importante è un dispositivo creato per la skin care solamente che appunto se riusciamo a trovare un utilizzo alternativo e quindi con il fondotinta io trovo che l'ammortamento del costo si dice così insomma si è molto molto utile ho voluto provarlo perché avevo visto alcune in realtà in italia nelle beauty community italiana ho visto solo una recensione perché non se ne parla purtroppo di questo prodotto sono più le americane che lo lo adorano lo amano e tutto quanto e quindi ho voluto provarlo ho venduto appunto dei prodotti su the pop e spot trovate sempre link qui sotto e e quindi ho voluto regalarmi questa questa testina è un acquisto che sicuramente rifarei anzi quando questa qua mi abbandonerà la riacquisterò sicuramente perché ha rivoluzionato il modo di stendere il fondotinta e ripeto scusate questo effetto che io ho ottenuto non sono mai riuscito ad ottenerlo nell'arco degli anni effetto appunto pelle nuda e poi vi giuro al super confortevole vorrei farvi sentire vorrei farvi toccare con mano la pelle niente spero che questo video vi sia stato utile e vi mando un bacio al prossimo video ciao allora scusatemi come sempre io mi perdo nei meandri chiacchierando e quindi mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante adesso appunto che stavo riguardando il video cosa era uscito mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante allora questa testina è studiata non solo per stendere il fondotinta ma è studiata anche per sfumare il contouring il blushing crema l'illuminante comunque tutti i prodotti cremosi io purtroppo questo non ve l'ho fatto vedere perché non ho non utilizzo i prodotti cremosi per il contouring utilizzo i prodotti in polvere quindi non potrei esservi utile in questo ho un semplice blush vecchissimo di kiko anzi non so più manco quello perché ho fatto decluttering e l'ho buttato però ho questo qua di essence che è il metal glam che anche questo ha durato sei mesi e è di una collezione tipo di due anni fa quindi aspettate l'odore ancora buono proviamo caso ma c'è caso mai tanto appena finisco il video me lo tolgo così vediamo ok ma si vede ah è così spattasciato così in faccia in giro guardate dove l'ho messo ma posso essere così come proviamo a sfumarlo ma allora in teoria riuscite a vedere qualcosina proviamo a zoomare riuscite a percepire come l'ha sfumato riproviamo di qua magari di qua si vede qualcosa di più to do list buttare le cose vecchie ok qua abbiamo esagerato ma per amore del dell'escenza questo ed altro bene se riesce a sfumare sta cosa fatevi due conti due domande io l'ho acquisterei premetto che ovviamente l'ho acquistato io mare si sta già asciugando aiuto lo sfumeremo mai hai lì ti sorridono i monti hai lì eri triste laggiù in città cioè apprezzate riuscite ad apprezzare come sfuma i prodotti lasciando perdere la mia performance canora zoom per la vostra gioia guardate è la luce impariamo usare la telecamera niente io spero che riusciate ad apprezzare da voi io non aggiungo altro perché il prodotto a parer mio è un prodotto che parla da solo fantastico ok basta non aggiungo altro ciao grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.